Di chi sono queste rette? Che non ci fate caso perché c'è tutto il cammello fuori Dai, non ti potrà perdere Di chi sono queste rette? Vai, dai 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 Allora, un po' di me Di chi sono queste rette? Vai, forse Va, va 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 Voi Va, va Vu Va, va 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.